buon pomeriggio banda bene l'altro giorno ho fatto questi mughetti questi mughetti per il primo maggio perché il mughetto in francia ma poi in realtà anche un po nel resto del mondo è il simbolo proprio della festa del primo maggio che è la giornata dedicata ai lavoratori l'altro giorno invece ho fatto un sacco di papaveri perché il 25 aprile è anche qui grande simbologia fiori rossi papaveri poi siccome vi sono piaciuti tantissimo su facebook questi miei papaveri ho deciso di insegnare a farveli e quindi ieri abbiamo fatto il video e la lezione in cui abbiamo realizzato questi fantastici papaveri ma anche degli altri fiori immaginari di tutti i colori possibili immaginabili oggi quindi ho pensato sapete che c'è famo fiori perché questi fiori in realtà possono essere a parte utilizzati come simbolo per tantissime giornate feste ricorrenze regalare fiori è sempre una cosa molto bella quindi non è detto che non debba per forza regalare il mazzetto dei fiori è ancora più bello regalare un disegno di fiori ma soprattutto perché scopriremo insieme che con i fiori la nostra testa esploderà di fantasia e di colori oggi però che tecnica utilizziamo a ritorniamo indietro utilizziamo il materiale più povero che abbiamo carta di qualsiasi tempo e penne matite pennarelli quello che avete io tiro fuori quindi il mio bel barattolone delle penne pennarelli oggi penso di utilizzare queste che sono delle penne che io adoro che ancora non vi ho mostrato che hanno un tratto molto sottile e sono devo dire quando sono un pochino giù vado a fare grande shopping di queste penne perché c'era anche un tabaccaio proprio vicino casa mia e quindi per fortuna riesco a reperire pure in questo periodo in cui è più difficile cercare il materiale e facciamo ritorniamo ai nostri scarabocchi perché gli scarabocchi scusatemi come sapete sono veramente la mia passione e anche il mio talento vi avevo già mostrato il mio sketches scratches avevamo fatto proprio una piccola lezione una piccola un piccolo incontro tutte sugli scarabocchi e approfitto mostrandovi velocissimamente questo mio quaderno già scarabocchiato che serve a scarabocchiare per parlarvi di un'altra realtà romana sapete che ogni tanto provo in questi corsi anche a raccontarvi delle cose che amo che in in questo periodo sta riaprendo perché è una libreria quindi ha rimesso a disposizione tutta una serie di servizi questo posto in realtà è un luogo d'incontro che ha anche un bar fa tantissimi eventi e presentazioni in questo periodo ovviamente tutta questa parte è sospesa fino a nuovo ordine o fino a nuove possibilità però questa libreria che si chiama tuba che in una zona di roma molto vivace particolare contaminata da mille sensazioni da mille esperienze da mille culture si chiama tuba bazar è la libreria delle donne a roma ed è un posto veramente straordinario dove succedono tantissime cose festival di letteratura di scrittrici incontri e in questo momento stanno comunque organizzando anche tutte quelle presentazioni che avrebbero dovuto fare lì in questo magnifico posto le stanno organizzando online quindi qui sotto la descrizione ogni volta vi ricordo troverete scritto mostra altro e voi cliccateci perché vi mostrerò altro vi metterò anche il link delle fantastiche tuba dove tra l'altro è anche reperibile il mio quadernino degli schizzi perché loro si sono appassionate a questo mio quaderno e quindi ce l'hanno se lo volete prendere ma poi insomma in futuro faremo tantissime cose quindi respiro smetto di chiacchierare e comincio a disegnare che cosa fiori come con una penna una matita prendetela e come al solito inizialmente seguite me e poi a un certo punto lasciatemi quasi perde cominciate a tirare fuori tutto quello che avete dentro che avete visto tutti i ricordi di fiori che avete ma anche tutte le invenzioni che potete creare quindi io prendo uno dei miei quaderni degli schizzi questo è un bel quadernone grosso con la spirale e quindi è molto comodo perché si possono girare facilmente le pagine questa è anche una carta abbastanza buona ci posso anche andare poi sopra con l'acquerello volendo perché è spessa ed è abbastanza assorbente e comincio a disegnare questi fiori sono molto contenta perché ho comprato anche una lampadina nuova ci vuole molto poco per rendermi contenta e con questa lampadina vedo benissimo bene vi ricordate quando abbiamo fatto le case stesso discorso cominciamo facendo il fiore più immediato che ci viene in mente e io ritorno veramente un po alla mia infanzia quando il fiore lo facevo semplicissimo facevo una pallocca centrale e poi ci facevo dei petali attorno quanti petali boh quanti me ne entravano e quindi questo è il mio primo fiore però siccome oramai siamo già bravini possiamo già inserirci qualche cosa di divertente per esempio io decido che i petali li voglio fare così a righette perché come avrete capito è molto spesso utilizzo delle texture geometriche per decorare gli scarabocchi che faccio oggi esattamente come abbiamo fatto per le casette scarabocchi quindi disegno è molto veloce non dobbiamo stare lì a fare tutti i piccoli dettagli particolari bene già sapete cosa faremo questo stesso fiore adesso lo faremo con una corolla fatta in questo modo un bel pallone grosso grosso e attorno i petali piccoli 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 e siccome stiamo facendo una cosa ripetitiva è ovvio che il mio consiglio è quello di cominciare a canticchiare eccolo qua io ci faccio pure dei miei puntini perché io adoro i puntini voilà ovviamente adesso lo facciamo al contrario con il centro piccolo 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 e i petali grandissimi ma proprio grandi grandi in pratica come al solito stiamo disegnando lo stesso fiore ecco vedete a me non entrava quindi l'ho fatto è ancora più divertente e ovvero gli stessi elementi del fiore quindi un pallocco centrale e un numero imprecisato di petali a seconda delle dimensioni della distanza abbiamo dei fiori completamente diversi come per le facce vi ricordate due occhio e naso alla bocca ma a seconda della forma della dimensione e della distanza tra di loro tante facce differenti bene ora che cosa facciamo con questo fiore cominciamo a sbizzapirci perché noi abbiamo questa parte centrale che possiamo cominciare a duplicare quadruplicare e all'interno ci possiamo mettere tantissimi dettagli di decorazione io faccio tante piccole spiralette come al solito ma voi come al solito potete fare un po quello che vi pare qua dentro e da qui vedi tanti puntini pallini spiralette e da qui può partire un po tutto quello che ci piace volendo potremmo continuare all'infinito qua ci faccio qualche petalo ad aggiungere dettagli e moduli di questo fiore veramente potremmo andare avanti per tutta la giornata e oltre finché non finisce il foglio e quindi cominciamo a fare questo fiore sempre più largo aggiungendo dei pezzettini voi potete seguire come al solito quello che faccio io oppure no bene ci facciamo degli altri petali qui quindi non si capisce cos'è il centro di questo fiore finché non lo finiamo in realtà via vedete storti e ricordatevi che devono essere super scarabocchi perché oggi stiamo scarabocchiando e qui io ci aggiungo tutti storti degli altri filetti li chiamiamo così io non sono una botanica e devo confessarvi che non conosco le parti del fiore anche se mi ricordo molto bene che all'asilo e alle elementari me ne avevano insegnate ma io in questo momento sono interessata più che altro alle loro forme e a tutto quello che mi possono suggerire lo finisco così ma potrebbe andare avanti veramente tantissimo a lungo adesso ovviamente facciamo il fiore faccia quindi io faccio la faccia mia la faccia mia io la faccio con le sopracciglia un po' arcate con il naso lungo lungo come c'ero io ho le sopracciglia arcate poi ci faccio degli occhioni grossi mi ci faccio le ciglia lunghe perché oggi mi sono anche un po' truccata perché un giorno di festa e volevo essere carina e poi vi faccio la mia bocchetta storta eccomi qua c'ho pure un neo qua qui c'ho pure un po' le occhiaie ti ha e ciò le guange bene questa faccia interna del nostro fiore ci metteremo attorno tutti i nostri storti e scarabocchiati bellissimi petali vi ricordo che un modo bello per scarabocchiare per fare le cose storte se volete è quello di utilizzare la mano opposta a quella che generalmente utilizzate adesso lo facciamo insieme quindi se siete mancini utilizzate la mano destra se invece generalmente disegnate scrivete con la destra adesso insieme a me farete un fantastico fiore storto prendo l'altra mano e mi faccio il mio fiore io devo dire che poi alla fine nel tempo ho imparato a disegnare anche manco troppo male con la mano sinistra però sicuramente il tratto viene più storto perché ci ho messo una caterva da anni a imparare a disegnare male prima sapevo disegnare molto bene facevo delle cose super realistiche con tutte le ombrette al posto giusto con la pera che sembrava una pera con la goccia d'acqua sulla pera che sembrava una goccia d'acqua sulla pera e poi un giorno ho detto no io voglio imparare a a disegnare come quando avevo zero anni e ancora non ci sono riuscite ad arrivare a quei livelli però ci sto provando mi ci sto avvicinando voilà questo è il nostro fiore base adesso i fiori sono tantissimi per esempio potremo fare una rosa come la faccio la rosa quando la voglio scarabocchiare in maniera molto veloce faccio una spiraletta una piccola spirale che dal centro va allargandosi ma non in maniera omogenea e simmetrica ma in maniera storta quindi io parto da una parte centrale poi scendo prima un po su poi vado un po giù poi un po su poi un po giù poi un po su poi un po giù certo punto mi fermo e gli faccio sotto la parte sotto del fiore eccola qui ed ecco una fantastica rosa qui ci facciamo tutte le nostre belle spinette fantastica la mia rosa oppure molto spesso faccio quelle che chiamo le mie flare che hanno questa forma ecco un pochino questa qui sembrano tra un tulipano e un po un plettro della chitarra non so se avete presente i plettri della chitarra quindi faccio spessissimo questa forma come triangolare un posto ondata e generalmente ne faccio due sovrapposti uno più grande uno più piccolo sotto ci faccio un pallino e poi giù questa è proprio una mia forma che mi sono inventata questa è la mia flare vi ricordo che flare significa fiore in francese ed è femminile non maschile come come parola per questo è la flare molto divertente questo fatto che flare è femminile in francese e maschile in italiano e poi spesso ci faccio tutta una serie di boh che cosa sono gli sbruffetti di puntini di palline di tutto un pochino quello che mi capita i pallini sono veramente una delle cose che faccio in continuazione allora mentre continuate a disegnare questo flare adesso cosa faremo una cosa che abbiamo già fatto in passato ovvero io vi mostrerò delle immagini di fiori che ho trovato online come al solito sono immagini che posso utilizzare che non ho rubato ma che ho preso da un sito che mette a disposizione gratuita delle immagini senza diritto d'autore e insieme le scarabocchieremo in maniera veloce voi quindi non vedrete quello che disegno io vedrete queste immagini però io un pochino vi racconterò quello che io vedo magari vi aiuto ad osservare dei piccoli dettagli a cui non non avevate fatto caso l'ultima cosa che vi invito a fare visto che stiamo parlando di scarabocchi di fare veramente il fiore scarabocchiato è un altro che io faccio spessissimo come si fa si fa uno scarabocchio mamma mia mi piace tantissimo questo scarabocchio e da qui ci facciamo partire il suo stelo ci facciamo pure le sue belle foglioline allora questo pesce scarabocchiato è forse il più bello di tutti questi che ho disegnato io amo 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 i scarabocchi bene adesso quindi cominciamo a disegnare dal vivo per modo di dire perché vi mostro delle foto e non dei fiori dal vivo purtroppo non siamo qui tutti insieme anche se mi piacerebbe tantissimo seguitemi e vediamo che cosa uscirà fuori bene questo è il primo fiore che vi mostro che come vedete è molto molto simile al fiore che abbiamo disegnato all'inizio perché ve lo mostro? intanto voi scarabocchiatelo ma mi raccomando molto veloce perché volevo farvi notare la parte centrale la parte centrale è tutta un po' puntinata ma anche un po' scarabocchiata proprio io infatti la sto disegnando proprio come se fosse uno scarabocchetto tutto arricciato proprio faccio e poi attorno tutti i nostri petali ora io eviterei di mettermi proprio a contarli però cercate di fare molto velocemente appunto scarabocchiato una bella corolla tutto attorno e vedete che ogni tanto tra un petalo e l'altro se ne intravede uno dietro che fa capolino che è anche un trucco molto divertente quando uno vuole ottenere un fiore perfettamente tondo laddove ha un buco aggiunge un petalo che fa capolino e via dicendo bene io ho già finito di scarabocchiarlo anche voi mi raccomando come vi ho detto veloci veloci perché questi sono degli scarabocchi veri e propri ma anche degli esercizi di stile che ci servono per farci venire delle idee vi mostro quindi solo velocissimamente il prossimo fiore ma non dovete disegnarlo eccolo qui non dovete disegnarlo perché è davvero troppo simile a quello precedente ma anzitutto volevo ricordarvi quando poi finirà questo video se volete continuare a disegnare che poi si apre tutto il capitolone dei colori e guardate questo fiore viola con questo sfondo viola meraviglioso probabilmente anche un po' ritoccato lo sfondo con un photoschiop però guardate il centro che divertente che è fatto con due cerchi concentrici neri all'interno e all'esterno giallo e poi di nuovo un'ombretta nera però io direi di passare già al prossimo fiore da scarabocchiare velocemente perché questo un po' troppo simile a quello precedente eccolo qui questo è il fiore chiuso chissà se si deve aprire o se si è chiuso boh allora la cosa molto divertente che vi invito ad osservare mentre disegnate questo fiore è che i petali sono tutti un accanto all'altro abbastanza semplici da disegnare basta fare tanti petali uno accanto senza che si aprano come invece era successo per la nostra margheritona di prima adesso non so bene che fiori fosse due cose io osservo la prima è che i petali finiscono quasi a forchetta vedete sembrano quasi sapete che mi ricorda la testa di Bart Simpson e un'altra cosa che sotto ci sono queste sorte di lingue che sono devo dire una cosa grafica pazzesca penso che la copierò per fare qualche logo qualcosa di simile perché sono meravigliose queste lingue un po' a punta secondo me anche un po' pungente la punta sembra no? un po' spinosetta vedete che hanno infatti anche un sacco di pelletti spinette chissà che fiore è questa in realtà penso di essermelo segnato adesso ve lo dico subito questo fiore è una calendula la calendula viene stra usata tra l'altro in medicina nelle tisane bene veloci 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 voglio già passare al prossimo fiore oh meraviglioso un fiore di loto sulle ninfee allora cominciate a disegnarlo come vedete emergono dall'acqua questi petali imponenti grossi che poi vanno su diversi strati sotto sono più aperti e mano a mano che si va verso il centro sono più chiusi beh qui si apre uno stracapitolone perché le ninfee sono state dipinte da tantissimi 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 artisti soprattutto impressionisti a Parigi c'è un museo quasi solo dedicato alle ninfee di Monet e continuate perciò a disegnarle mentre sto disegnando anch'io con voi e poi sarà molto divertente provare a farlo anche con gli acquerelli per cercare di ottenere questi colori così così forti però che poi vanno a diventare trasparenti sotto 3 2 1 che meraviglia beh quando ero ragazzina ci andavo matta io facevo tantissime vacanze con la mia famiglia e finivamo spesso in dei campi perché stavo in camper tra l'altro e era una ricerca quasi una caccia al tesoro di questi meravigliosi fiori denti di leone che poi si soffiavano spesso vengono chiamati soffioni non so voi come li chiamate beh quanto mi divertivo e tuttora se ne trovo uno è mio non me lo deve toccare nessuno lo devo soffiare io bellissimo bene questo da disegnare è super divertente sembra così una ruota panoramica del Luna Park vedete all'interno c'è questa cosa che sembra una specie di ficodindi a miniatura tutto puntellato poi tutto attorno partono tipo frecce questi questi filamenti bianchi che poi alla fine vanno a sbruffarsi mi piace da morire questa parola sempre super tecnica da tutte le parti questo è veramente stra divertente sto pensando che voglio trovare anche un modo per realizzarlo con gli acquerelli wow ci si diverte tantissimo veloci 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 il prossimo 3 2 1 allora questo è sempre quello di prima il dente di leone però ve l'ho voluto far vedere più da vicino perché in realtà volendosi inventare un fiore ma chi l'ha detto che questo già non potrebbe essere un fiore di per sé ogni singolo filamento potrebbe essere un fiore pensate che bello una pagina disegnata con tutti questi fili che vanno da tutte le parti poi qui ci sono anche queste goccioline d'acqua di brina ruggiata meraviglioso quindi provate a scarabocchiare molto velocemente un unico fiore fatto in questo modo con una base da cui partono 3 miliardi di fili da tutte le parti verso l'esterno vedete vanno tutti verso l'esterno e si congiungono alla base veramente velocissimo questo 3 2 1 perché abbiamo assolutamente lui beh questo l'abbiamo fatto in tutti i modi possibili immaginabili il nostro papavero che in francese si chiama coquelico mi piace tantissimo questo nome e vi ricordate se avete fatto il corso di ieri se no vi invito a farlo perché è stato secondo me molto bello che vi avevo detto che spessissimo i papaveri hanno questi petali spampanati li avevo chiamati io perché sono molto sottili spesso sono in campi pieni di vento e quindi la forma del papavero classica disegnata tipo fumetto in realtà è difficile da trovare molto poi più bello più divertente secondo me così aperto al sole e alla vita wow quanto sono romantica state scarabocchiando super veloci e i fiori sono un po' più difficili delle casette perché le casette erano geometriche in qualche modo bastava tracciare delle linee dritte e storte due finestre una porta e qui bisogna metterci un pochino più di spirito di osservazione per capire come questi petali riempiono lo spazio è un esercizio difficile però è importantissimo sia per imparare a disegnare e se non si passa da qui diventa difficile imparare a disegnare per esempio una persona sia come al solito il nostro scopo è quello di cercare di avere idee nuove e di coltivare la nostra creatività pronti 3 2 1 bene questo è un lini mi è piaciuto molto e ve l'ho mostrato non perché abbia questa forma pazzesca anche se in realtà ancora non l'abbiamo disegnata una forma così come vedete dovete partire dall'alto verso il basso mi è piaciuta questa foto perché è al contrario e quindi noi dobbiamo imparare a disegnare le cose un po' al contrario perché assumono delle forme diverse questa è una specie di stella vedete una sorta di stella 1 2 3 4 5 6 punte però noi lo stiamo vedendo in prospettiva ragazzi stiamo facendo una cosa super difficile meraviglioso e prima di imparare a studiare poi farò dei corsi delle lezioni specifiche su queste cose proviamo a farlo così semplicemente osservando quindi questa sorta di stella bianca ripiegata su se stessa da cui spuntano 1 2 3 4 5 6 fantastici siluretti gialli meraviglioso veloci 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 perché sto già per cambiare immagine bene ecco qui anche questo è un fiore insomma abbastanza diffuso lo conosciamo un po' tutti è la lavanda però perché ve l'ho mostrato perché effettivamente è completamente diverso da tutti i fiori che abbiamo disegnato fino ad adesso quindi velocissimi scarabocchiamo e decidete voi se ne volete fare solo uno o provare a fare un po' questo campo con questi fiori di lavanda che se ne vanno un po' da tutte le parti abbiamo uno stilo centrale partite da lì fate uno stilo centrale e poi tutto di lato questi fiorellini che coprono praticamente tutta l'altezza questo è il classico disegno in cui bisogna fare vi lascio ancora qualche secondo per finire questa lavanda ricordatevi di non essere veloci 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 poi domani dopo domani prossimi giorni se non avete nulla da fare vi riprendete questo video scegliete il vostro fiore preferito tra questi che vi ho mostrato e ve lo fate con calma lo fate bello grande oppure ne fate tanti oppure provate a vedere che cosa succede con gli acquerelli visto che oramai abbiamo già fatto tre lezioni di acquerello adesso il prossimo mi fa morire dalle risate sono andata a cercarmi come si chiama una cosa tipo pepalantus e poi c'è un altro nome latino sempre credo che definiva questo fiore beh io lo trovo fantastico a parte che mi ricorda quelle labbate scusatemi obrobiosi io le trovo che si vendono insomma nei negozi dove si comprono le cose a poche euro per Natale che ci sono questi fili luminosi a led e a me non piacciono molto magari voi ne avete 3.000 a casa io sto facendo una figuraccia beh se ne avete 3.000 a casa complimenti però questo è stradivertente è anche piuttosto facile da disegnare alle fine partite dal centro e tutto attorno tanti fili e alla fine di ogni filo c'è una specie di posso dirlo caccoletta nera ma è stupendo anche questo fatto per esempio con le matite colorate potrebbe essere divertentissimo potremmo provarci questi sono tutti i materiali che poi ci aiuteranno ad avere idee quando non sappiamo cosa disegnare bene questo è davvero facile facile quindi non è che vi posso dare troppo tempo sto già per cambiare immagine pronti pronti via allora questo ve l'ho fatto vedere perché perché finora abbiamo fatto un singolo fiore e invece sarebbe bello fare una pagina con tanti fiori è importante che impariate a riempire il foglio a capire dove ci sono i vuoti e i pieni all'interno di un'immagine qua se vedete a destra è più piena l'immagine in alto a sinistra invece il fotografo ha scelto di lasciare dell'aria uno spazio cercate di fare un quadratino rettangolino sul vostro foglio di carta riempiendolo più o meno con queste proporzioni scusatemi qui quindi bene cercate di individuare la forma dello stelo l'andamento che ha vedete parte sto parlando di quello di destra quello più grande parte da destra fa una virata a sinistra e poi risale su lungo 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 e da lì poi si aprono altri piccoli steli sembra un po' come quando abbiamo disegnato l'albero avete fatto tutti la lezione degli alberi è stato uno di quelli che ha avuto più successo e alla fine di ognuno di questi piccoli steli c'è un fiorellino che qua non è che si veda molto bene fate qualche petalino veloce se avete pennarelli fatelo di questa sorta di rosa lilla è molto romantico questo fiore bene il prossimo mi fa morire dalle risate vi piace tantissimo credo che si chiami aspettate che vado a ricercarmelo non sono sicura deve essermelo segnato bene guardate wow credo sia ah no credo che sia stato denominato semplicemente exotic flower insomma è un fiore esotico beh dai è stupendo sembra una sorta di pappagallo tucano con questo spennacchio anche questo beh con i fiori farti a colori sarà molto divertente ma non sottovalutiamo il potere come al soneto del bianco e nero e dello scarabocchio quindi facciamolo insieme io parto dal basso fium faccio questa sorta di beccone verde che ho in basso che ha una puntina e poi ne faccio un altro più piccolino giallo sopra e vado a poco a poco ad aprirmi con un altro e alla fine faccio questa sorta di che sono mi sembrano tre quattro petali gialli che si chiudono mamma mia ma questo fiore è meraviglioso no no sono troppo felice pronti questo è meraviglioso ma veloce da disegnare per cui il prossimo tre due uno eccolo qui vado a vedermi come si chiama questo fiore che sono stata brava e me le sono insegnate è un ipomea wow allora perché ve l'ho fatto vedere perché di per sé sono quelle che io in genere chiamano le campanelline no sì qualcosa di simile è un fiore che troviamo spesso insomma nei nostri campi qui in Italia però mi ha fatto ridere perché guardate quei due di sotto basta disegnare un pentagono quasi preciso io lo faccio con voi uno due tre quattro cinque poi c'è questo centro bianco meraviglioso da cui partono queste sfumature viola che noi facciamo così se stiamo lavorando con una penna nera non possiamo fare le sfumature viola e quindi le facciamo scarabocchiate anzi sono molto curiosa di sapere come scaraboccherete il viola come si scarabocchia un viola col nero e qui vi voglio bene questo mi è piaciuto molto perché una cosa che potete fare quando volete fare dei fiori e non sapete come farli è partire da una forma geometrica qualsiasi un triangolo un quadrato un pentagono come in questo caso oppure una forma anche curva strana come vi piace a voi poi ci fate qualche petalino ci fate lo stelo due foglioline e vedrete che verrà bellissimo beh questo è molto veloce da fare allora adesso vi faccio vedere l'ultimo fiore anche se ne ho trovati miliardi in realtà bellissime magari ve li metterò qualcuno sugli scarabocchi di freni per farvi prendere un po' di ispirazione ed è uno dei miei fiori preferiti io ne ho due di fiori che amo molto una è la fresia e un'altra è questa che è la passiflora e per tantissimo tempo ho avuto una pianta di passiflora a casa che era tra l'altro generosissima perché come mi giravo spuntava un fiore nuovo e sono questi fiori enormi pazzeschi però adesso ve lo faccio vedere in un'altra foto che è più facile da disegnare eccola qui qui si vede molto meglio come è fatta questa passiflora è folle sembra un UFO ma come diamine gli è venuto in mente di uscire così pazzesca e questa è lunga da disegnare vediamo facciamolo insieme sotto abbiamo questi petali grossi bianchi e questi li facciamo sotto facciamo tutti questi petali grossi bianchi ora al centro partono tutti questi zazza zazza zali chiamiamo cioè questi filetti bianchi blu ma guardate tra l'altro che sfumatore folli vedete che comincia ad essere tipo un nero poi diventa bianco poi blu poi bianco poi blu mamma mia al centro diventa scuro 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 e poi parte come fosse una specie di vulcano guardatelo sembra esattamente sì un vulcano come quello che disegnereste facilmente col cratere sopra o tipo un falò da cui parte una specie di fungo anche sembra una giostra ecco cosa sembra mamma mia stupendo e sopra abbiamo questi qua si vedono tre pistilletti ora una volta io ero a Testaccio Testaccio è un quartiere fantastico di Roma ero a Testaccio con la band avevo una band quando ero una ragazzina o meglio partecipavo anche se un po' stonata a questa band e c'era questo sassofonista stavamo aspettando che arrivassero gli altri ragazzi molto più grande di noi era una specie di piccolo guru che avevamo trovato che mi fece vedere questa passiflora e mi fece tutto un discorso che purtroppo io non ho i mezzi per ripeterveli su come la musica il ritmo della musica che noi in genere ascoltiamo in realtà sia assolutamente ripetuto in questa passiflora mi ha fatto tutto un discorso sui tre quarti quattro quarti che non so purtroppo ripetervi però vorrei veramente anzi se c'è qualche musicista all'ascolto che sa ricordarmi questo meraviglioso discorso mi piacerebbe tantissimo saperlo bene ragazzi e questo è l'ultimo fiore che vi volevo mostrare quindi finiamo questa fantastica passiflora bene nel frattempo è venuta a trovarmi una delle mie flerra questa è una delle mie preferite perché ci ho dedicato tanto tanto tempo e vorrei che voi potesse toccarla perché è super super ruvida visto che ho graffiato il legno il colore in tutti i modi questa è fatta con l'acrilico e un giorno faremo anche una fantastica lezione di acrilico su un pezzo di legno di compensato allora la mia flerra e tutti i fiori che abbiamo disegnato insieme vi invitano a continuare a disegnare fiori in continuazione questa settimana poi quello che ci piacerà di più lo faremo con l'acquerello continuate a seguire le lezioni dell'acquerello che ho fatto se non le avete viste potete trovarle in questo canale di youtube sono le lezioni precedenti a queste quindi per favore iscrivetevi al canale di youtube in maniera tale che poi con tutte queste cose che imparate potrete diventare sempre più indipendenti di fare dei capolavori anche se io spero che continueremo a farci compagnia a vicenda anche dopo questa cinquantena per ora la chiamiamo così tra un po' sarà una sessantena e come al solito leggete sotto la descrizione andate a vedere il sito e seguite sui social la libreria tuba dove potete anche pubblicità terribile trovare il mio quadernino ma troverete anche tantissime altre iniziative fantastiche tra l'altro appunto anche chi non è di Roma in questo periodo può approfittare dell'occasione di vedere tanto materiale tante presentazioni online mandatemi i vostri capolavori come al solito alla fine di questo video trovate tutti i miei contatti per mandarmi quello che avete prodotto oggi ci tengo tantissimo e come al solito viva il head zapparin vedrete che d'ora in poi quando poi finalmente potrete uscire andare in campagna al mare in villa al parco eccetera non vedrete più i fiori con gli stessi occhi ciao ciao